Sono Max Procopio dell'ufficio stampa di Alinghi per l'Italia. Il mio lavoro comporta diversi aspetti, uno è quello delle relazioni con i giornalisti, quindi essere sempre a disposizione per dare informazioni sul team, chiaramente per dare la massima visibilità possibile a tutte quelle che sono le attività del team. Questo è il lavoro principale, che viene fatto in modi diversi, viene fatto in una maniera più istituzionale, più ufficiale, che è quella dell'invio dei comunicati stampa, delle fotografie sempre relative all'attività del team, e poi invece c'è un'attività che è quella che poi si svolge normalmente, come nel caso adesso di un evento proprio classico, nel centro media, e quindi parlare con i giornalisti, organizzare per loro delle interviste specifiche, mirate a dei membri del team, insomma tutto quello che può servire per aiutare la comunicazione verso l'esterno del team stesso.